Steroidi a 13 anni. Sì, avete capito bene. Questa ragazza è un prodigio della panca piana e infatti a 13 anni riesce a sollevare 235 libre. Diciamo che è talmente forte che anche Arnold Schwarzenegger è voluto andarla a vedere in una sua competizione proprio per congratularsi con lei. Ma all'età di 15 anni lei è riuscita a sollevare 264 libre. Quindi in soli due anni è riuscita ad arrivare a un peso molto ma molto maggiore rispetto a quello di tempo fa. Nonostante pesasse solo 163 libre. Però dopo l'ultima vittoria si sono accorti che Mariana prima di ogni competizione assumeva dei diuretici. Questo perché le permetteva di passare i test antidoping e quindi di nascondere gli steroidi anabolizzanti. Quindi è stata in grado di illudere i test antidoping per tutti questi anni ed ottenere tutte queste grandi vittorie. Naturalmente lei ha...